Abbiamo occupato questo stabile di proprietà di Onipica, un colosso dell'edilizia bolognese, un colosso della speculazione bolognese. Nel mezzo del vuoto di risposte delle istituzioni locali e nazionali all'emergenza abitativa riteniamo che l'occupazione è l'unica risposta possibile, l'unica risposta in grado di dare una soluzione all'emergenza abitativa. Il 30 settembre avevamo occupato uno stabile di proprietà dell'Acer, messo in vendita dell'Acer, in un momento in cui per rispondere all'emergenza abitativa sarebbero necessari investimenti in edilizia pubblica residenziale, sarebbe necessario recuperare il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, gli antipubblici decidono di svendere. Oggi invece abbiamo fatto un'altra scelta di parte, oggi abbiamo deciso di stare dalla parte della redistribuzione, non quella dell'accumulazione, oggi abbiamo deciso di stare dalla parte dei diritti occupando, non dalla parte della rendita. Che 100 occupazioni nascano in città!